Buongiorno, questa qui è una lezione sulla ceramica, andiamo a prenderla dalle mie lezioni, modulo 4, materiali ceramici. I materiali ceramici vengono utilizzati in campo dentale come materiale estetico per riprodurre il dente con ottimi risultati estetici. In realtà sono spesso considerati vetri perché la parte estetica è trasparente e traslucida e permette il passaggio della luce, quindi lo smalto è principalmente vetroso. Due definizioni che sembrano semplici ma in realtà racchiudono delle insidie, cioè che i materiali ceramici sono materiali inorganici, non metallici, costituiti da composti di elementi metallici e semi-metallici con non metalli. Cose che apparentemente, appunto come dicevo prima, semplici, ma che richiedono una certa conoscenza della chimica, in quanto bisogna avere ben chiaro cosa vuol dire inorganico. In chimica inorganico, i composti inorganici sono composti che principalmente non contengono carbone organico, non metallici, quindi inorganici non caratterizzati a legame metallico, che sono costituiti da composti di elementi metallici con non metalli, quindi formano legami ionici, metallici, i metalli tendono a perdere elettroni che vengono acquistati dai non metalli, e semi-metallici che invece tendono a mettere in comune elettroni con i non metalli formando dei legami covalenti, quindi legami chimici forti che tengono vincolati a sé gli elettroni. Ancora più in generale si definiscono materiali ceramici, tutti quei materiali inorganici non metallici caratterizzati da frattura fragile, ossia che il materiale giunge a rottura dopo una deformazione senza apprezzabile deformazione plastica.